buongiorno iniziamo il primo blog e venite con me al lavoro infatti sono vedete in agenzia e niente come tutti sapranno sicuramente da un miliardo di anni io sono un agente di viaggio e quindi niente ora sono in agenzia aspetto dei clienti e poi ci vediamo dopo eccoci qui andiamo a fare un servizio infatti vedete sono fuori dall'agenzia e niente arrivo un attimo in posta poi ritorno qui come vedete c'è ancora un bel po di vento eccoci qui allora ho finito di preparare il pranzo mi mancano soltanto le uova e ho fatto praticamente il farro con zucchine peperone rosso e peperone giallo perché stiamo cercando di cambiare alimentazione totalmente anche perché ultimamente veramente mi sento molto molto stanca diciamocela tutta sì perché siamo perché lavoriamo eccetera ma l'energia deriva anche da alcuni alimenti e quindi stiamo stravolgendo un poco il nostro modo di mangiare